E' molto più di un gemellaggio quello che si sta consolidando tra le camere di commercio di Cosenza e di Trento. E' una vera unione di intenti che parte dalla reciproca conoscenza dei prodotti enogastronomici per puntare ad un vero scambio commerciale che avrà certamente preziose ricadute anche nel comparto turistico. E così dopo che i Cosentini hanno fatto visita ai Trentini, portando tra le Alpi i nostri migliori prodotti, ecco che la visita viene ricambiata. Fino a domenica 8 gennaio il Castello Ducale di Corigliano ospiterà l'iniziativa L'Alta Via del Gusto Trentino, che servirà a far conoscere anche in Calabria l'enorme produzione di quei territori. Andando in Trentino, devo dire con grande soddisfazione, abbiamo visto che questo interesse enorme dei nostri prodotti dell'agroalimentare. Siamo diversi, ma per questo che siamo diversi possiamo stare insieme. Loro hanno le montagne e noi abbiamo il mare. Noi abbiamo le cleventine, loro hanno le mele. Con la nostra liquidizia, con le nostre vichi, possono assaggiare i loro vini. Il Trentino a noi è molto interessante perché non è semplice la grande distribuzione, non è semplice i grandi gruppi e le nostre imprese possono andare con dignità allo stesso livello, lo stesso fatturato loro ad andare a parlare. Loro hanno una grande forza più di noi, la cooperazione. In piena sintonia le dichiarazioni del Presidente della Camera di Commercio di Trento, che crede fortemente nella realizzazione di questo asse tra nord e sud. I rapporti tra la Camera di Commercio di Trento e di Cosenza sono rapporti vivi, ma vogliono anche cercare di sviluppare un'infinità di cose sulle quali possiamo davvero confrontarci e scambiarci queste eccellenze. Consumare noi i vostri prodotti e voi i nostri. Cominciamo a produrre e a consumare italiano, cominciamo a far capire che la qualità dei nostri prodotti non è seconda a nessuno e che questo è un grande paese, ma che ha bisogno di conoscersi sempre di più e di fare squadra per cercare di sviluppare la nostra economia, perché se cresce l'economia cresce anche la qualità della vita dei nostri cittadini, che è l'obiettivo che dobbiamo tutti quanti porci insieme.